Li chiamano all'inglese cold case, ma non sempre le indagini su omicidi irrisolti vengono chiuse in un cassetto dimenticate, perché come tutti i reati per i quali è previsto l'ergastolo non esiste prescrizione e quindi in un modo o nell'altro qualcuno continua ad indagare. E proprio grazie a queste indagini i carri abbinieri di Cosenza insieme a quelli di Crotone hanno arrestato tre persone ritenute responsabili di due omicidi avvenuti nel 2001. Quello di Salvatore di Ciccio, avvenuto l'11 settembre, e quello di Andrea Sacchetti, commesso il 6 febbraio dello stesso anno. Le indagini avrebbero dato riscontro ad alcune dichiarazioni nelle quali veniva riferito come i due omicidi erano maturati nel contesto degli equilibri tra cosche di Andrangheta, all'epoca operanti nel territorio di Rossano e Corigliano, ricostruendo così la dinamica e il movente dei due delitti. Salvatore di Ciccio, scomparso nella sida beritide senza lasciare traccia, sarebbe stato ucciso in un sistema di alleanze tra sodelizi operanti nell'area ionica corasantina, con l'avallo dell'articolazione di Andrangheta di Ciro, il cosiddetto crimine di Ciro, diretto all'epoca dalle germone Cosca, farao o marincola. L'omicidio si sarebbe consumato a Crucoli, dove l'uomo era stato portato con un pretesto e poi ucciso con colpi di arma da fuoco e quindi il suo corpo sarebbe stato fatto sparire. Stessa cosa sarebbe successa ad Andrea Sacchetti, scomparso a Rossano senza lasciare tracce. La sua morte sarebbe da ricondurre al controllo del commercio delle sostanze stupefacenti da parte della consorteria egemone sul territorio. Anche in questo caso l'omicidio sarebbe avvenuto lo stesso giorno della scomparsa, all'interno di un'azienda agricola dove il giovane era stato condotto con un pretesto, quindi ucciso e fatto sparire.